Si è insediato Nico Torrisi, nuovo amministratore delegato della SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania. Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi ieri, ha deliberato infatti, su parere conforme del Collegio Sindacale, la sussistenza dei requisiti statutari di onorabilità e professionalità in capo a Torrisi e superata una prima fase necessaria per la corretta composizione del Consiglio d'Amministrazione della SAC, che ha già sottratto sin troppo tempo alle molteplici e importanti attività che da oggi mi vedono, unitamente al Presidente e agli altri consiglieri, impegnato ad assolvere al meglio la funzione a cui siamo stati chiamati, ha affermato Nico Torrisi, non è più tempo per le parole, ma di agire concretamente per il bene dell'azienda e del territorio in cui essa opera.